Il prossimo piatto vi viene messo davanti, la sequenza esatta è da sinistra verso destra. Come si scrive? Qui facciamo da un mantecato classico, la ricetta tradizionale. Al centro abbiamo un mantecato ai peperoni, con i peperoni scottati. A destra abbiamo un mantecato al curry. Mantecato al curry, mi piace ricordare che abbiamo due grandi navigatori del passato, Pietro Quedini che ha portato il baccarano e Marco Polo che ha portato le spezie e il curry. Si sono incontrati a Venezia e l'unione di questi due ingredienti è nato il baccarano e il mantecato al curry. Grazie. Molto interessante la storia di Cono è arrivato in baccarano in Italia. Pietro Query, di cui appena ha citato lo chef, come racconta anche nel suo libro, è naufragato intorno al 1500-1433, prima della scoperta d'America, sull'isola di Roast, nelle Lofote, in un lungo viaggio che dall'Irlanda ha perso il controllo della barca che andando per giorni e giorni vagando nel mare del nord, vengono ripescati da questi abitanti delle isole Lofote e la prima cosa che vengono su queste isole sono questi pesci lunghi così, duri come un martello, che essiccavano al sole. Sono naufragato il 4 gennaio, all'inizio della pesca del merduto. Che tu hai visto tra l'altro in Norvega. Allora quello che è lo stop alla fine, è lo stop fisso che voi chiamate baccalà in Veneto, lui quando viene a fare le serate con il baccalà, io gli lo dico baccalà, gli arriva di tutto, tranne quello che ha bisogno lui. Ovviamente Querini, che è un senatore veneziano della Serenissima, è anche un buon, abile commerciante, porta quando vengono rimandati indietro, e vengono rimandati indietro perché cominciavano a nascere bimbi con gli oschi azzurri e i capelli biondi, con i capelli biondi, con i capelli biondi, e inizia questo commercio, che tra l'altro ha fortuna anche per un motivo storico e religioso. Siamo in un periodo in cui i giorni in cui si può mangiare e i giorni in cui invece si è previsto di giurastinenza si epivalgono. Allora cosa succede? Soprattutto in tutto il nord Italia è un successo straordinario, il baccalà non solo, perché ci sono anche pubblicenti e tradizioni, anche nel Ciletto, pubblicenti del baccalà. Il concilio di Trento conferma il baccalà come uno dei piatti che è possibile consumare nei giorni in astinenza di giurgo, e da qui nasce la tradizione e la fortuna del baccalà in Italia, in un mare dove non si pesca il baccalà ovviamente, un pesce che deve farsi un lungo viaggio per venire qui qua. È molto simpatica la storia dell'altro ieri, quando è arrivato, no, ieri, ieri è arrivato lo storico del baccalà, e si pensava al grassi di giurgo, ma poi invece se ne è dovuto battere a martellate lo chef. martellate, abbiamo preso il muletto, caricato un baccale di acqua, e mollato il baccale di acqua sull'alba. Queste cose il direttore non le deve sentire. Era l'unico modo per cercare di ammorbidirlo. E sentite com'è venuto. Grazie. La famiglia del merruzzo è enorme. Ci sono tanti pesci che si chiamano merruzzo. Solamente due specie si possono chiamare baccalà. Il gados morua, che è dell'oceano atlantico, zona PAU 27, mentre il gados macrocefalus, che è prettamente della zona dell'oceano Pacifico, pescato in Alaska. Quello che viene essiccato è solamente il gados morua, perché le popolazioni nordiche dell'Europa hanno l'abitudine e tradizione di essiccare questo pesce. In Alaska no. Quindi se trovate del baccalà, è chiamato baccalà ed è fresco, può essere dell'elofotei oppure dell'Alaska. Se vi parlano di stoccafisso, stocco norvegese, è solamente dell'elofotei. Grazie. Altra domanda. Ecco, il discorso delle seppie. Non ci provo nemmeno a far uscire Federico, tanto non riesce perché è timido. Quale sono da preferire? Quelle della parte? Qua, sulle seppie, non trovate terreno fertile. Ah boh, lo chiediamo a Federico e poi diamo la risposta dopo. No, no, ve lo mandiamo fuori e cerchiamo di farlo parlare. Grazie. Buon appetito. Grazie, complimenti. Quello che non vi ho detto, la pulita l'ho portata io da casa. Le valsa la pina a caricare, eh. La pulita è una pulita bianco perla, una qualità, una qualità rara, sostenuta da Slow Food e da alcuni produttori pazzi che sono disposti a mettere a disposizione il proprio campo per fare questa produzione. Ha una panocchia molto piccola, una bassa resa, però il gusto è eccezionale. Grazie. Grazie. Dopo passo il 30. Grazie.